Il Natale di Gesù è la manifestazione che Dio si è schierato una volta per tutte dalla parte dell'uomo per salvarci, per risollevarci dalla polvere delle nostre miserie, delle nostre difficoltà, dei nostri peccati. In una piazza San Pietro vestita per le feste, Papa Francesco ha invitato tutti a riflettere sul Natale come festa della speranza che supera l'incertezza e il pessimismo. Dio infatti è con noi e si fida ancora di noi e sceglie la Terra come sua dimora per stare insieme all'uomo e farsi trovare là dove l'uomo trascorre i suoi giorni nella gioia e nel dolore. Il bambino di Betlemme ci offre così un'energia spirituale capace di non farci sprofondare nelle nostre fatiche, nelle nostre disperazioni, nelle nostre tristezze, perché è un'energia che riscalda e trasforma il cuore. Nel corso della catechesi il pontefice ha infine chiarito che il vero cristiano deve essere capace di seguire l'esempio del Padre Celeste, abbassandosi per mettersi con umiltà a servizio di quanti sono nel bisogno.